Ben ritrovati con AgriMag News. Una circolare AGEA decreta le istruzioni operative numero 17 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la ristrutturazione dei vigneti. La domanda di sostegno per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna di commercializzazione 2018-2019 va presentata nel prossimo 30 giugno. Il provvedimento riguarda tipologie diverse e distanze, le domande di sostegno, di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo, di pagamento a saldo e di variante. Una volta che il finanziamento pubblico è stato riconosciuto, l'intervallo di tempo entro il quale gli investimenti per la riconversione e la ristrutturazione del vigneto devono essere realizzati non può superare tre anni dalla data di concessione del sostegno e, comunque, non può essere superiore alla varietà d'eventuale autorizzazione all'impianto o rimpianto. Per la richiesta del pagamento a saldo, il collaudo delle opere e il relativo pagamento, la scadenza è fissata tra il 20 marzo e il 20 giugno 2019. Nel caso di scelta di pagamento anticipato, l'accesso alla misura prevede, sempre entro il prossimo 30 giugno, la presentazione di una domanda per la liquidazione dell'80% del contributo finanziario per l'intera operazione.